per guadagnare tempo ho già inserito la mia clip clicco due volte all'interno del file e mi trovo nella pagina effetti e il nostro sfondo è caricato come vedi anche selezionato e incominciamo ad aggiungere i file che servono per completare l'animazione cuore 1 e cuore 2 togliamo la spunta visualizza al cuore 1 ci posizioniamo sul cuore 2 e pensiamo subito al ridimensionamento perché come puoi vedere è molto grande il mio mouse è abilitato ad interagire con il livello sottostante per cui prova anche tu cliccando di destro a mettere le spunte come ce l'ho io quindi ridimensiono 25 sta bene così 25 al punto 1 25 avevamo messo anche 25 al punto 2 per tranquillità andiamo a copiare il keyframe 1 e l'andiamo a incollare sul keyframe 2 in questo modo abbiamo una posizione esatta e precisa sia per la misura che per diciamo il posizionamento continuiamo a fare le stesse cose che abbiamo fatto con il cuore con l'altro cuore posizioniamoci sul tempo sul keyframe 1 e questa volta invece di ridimensionarlo a 25 proviamo a farlo un attimino proprio un pizzico più grande diciamo un 30 va bene 30 quindi copiamo posizioniamoci sul keyframe 2 e incolliamo torniamo al keyframe 1 ecco qua i due cuori si sono posizionati sopra semplicemente perché non contengono alla loro volta lo sfondo sono animazioni innanzitutto ma sono con sfondo trasparente perché possono esserci anche le animazioni con un fondo pieno per cui in questo caso andrebbe a coprire e non andrebbe bene io lavoro sempre con file pgn che precedentemente provvedo sempre con photoshop a pulirli di sfondo bene abbiamo inserito i due cuori nella nostra clip e ora andiamo a creare uno style a questo insieme questo insieme lo style lo prendo vediamo un poco l'avevo già scelto prima dovrebbe essere dovrebbe essere vediamo un poco dovrebbe essere ecco ci siamo questo qui clicco applica confermo la scelta e iniziamo anche a veder cielo ecco come carino molto bello bene primo testo magic e poi facciamo un livello nuovo per scrivere l'altro due livelli perché li faremo entrare uscire in tempi diversi li posizioniamo e poi innanzitutto capiamo come perché ho già settato prima il font è un fonte elegante la misura 56 ho settato un colore bianco e ho messo un bordino di un questo colore qui 166 150 216 è un'ombra chiara ora posizioniamoci in effetti per stabilire l'effetto che vogliamo dare al testo ho scelto qui puoi vedere l'anteprima io ho scelto l'elastico in entrata e in uscita mentre al tempo intermedio ho messo bloccaggio per dare tempo di lettura ora la cosa interessante che vedremo è come fare per entrare in un certo momento dell'animazione non all'apertura subito compare il testo ma lo facciamo comparire vediamo quando diciamo adesso parliamo sempre del primo e lo facciamo entrare qui e lo facciamo uscire qui invece il secondo un poco dopo quindi posizioniamoci a questo punto ecco è entrato già magic e poi entra moments per uscire per uscire prima no lo facciamo uscire dopo a questo punto possiamo guardare i cuori incominciano a muoversi vedete il tempo non è ancora entrato il testo è entrato è entrato solo ora vediamo ecco 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 perché stavano su due livelli diversi ora provvediamo a mettere anche un'immagine al alla nostra clip ci poggiamo di nuovo in effetti la nostra immagine è questa ma 100 è troppo grande il mio mouse come vi dicevo è abilitato e provvedo un poco a ridimensionarla entra con una misura di 45 e invece la faccio uscire con leggermente più grande va ad ingrandirsi man mano che esce creo un insert centrale e do una ruotazione di 360 gradi anche l'immagine la faremo entrare non necessariamente quando inizia l'animazione ma decidiamo noi quando voglio che entra adesso che si incrociano i due cuori eccolo la i due cuori e in mezzo ho messo l'animazione mia all'uscita vediamo poi qui abbiamo detto che ruota mentre a tempo 3 vediamo quando la facciamo uscire la facciamo uscire quando i due cuori si incontrano di nuovo via ecco adesso questo è tutto vedete come fare per fare entrare in un tempo stabilito si sposta il keyframe e la parte nera è la parte che non ha visualizzazione ok a questo punto possiamo anche confermare il tutto perché è completa vediamocela entrano prima le due animazioni fanno il loro da fare poi entra il testo l'immagine ruota entrata in tempo diverso e uscirà pure non quando finisce la ecco adesso già è uscita non mi resta che in aggiungere il copy copyright me lo vado a scegliere questo qui lo apro lo metto a fuoco cioè a fuoco ci do un poco di no veramente era già in memoria quindi ho dato un poco di luminosità l'ho ridimensionato in un bello diciamo focalizzato e adesso il copy si è registrato in tutti i fotogrammi vediamolo di nuovo intanto che scorre ci stiamo al visitatore occasionale voglio dire che seguendo il link sotto al video di youtube ti trovi nel sito dove c'è la cartella che puoi scaricare liberamente ci sono i file che potrebbero servire per l'esercitazione si possono scaricare liberamente solamente devo consegnare una password che consegno agli iscritti del mio canale ai frequentatori diciamo e poi e poi nient'altro ci sono anche tutorial primi passi intermedi e avanzati questo è uno dei tutorial avanzati non mi resta che ringraziare per il tempo che mi avete seguito vi ringrazio anche per aver lasciato un segno un passaggio sotto il mio video tutorial che ne so io con qualche voto con qualche commento ringrazio e do l'appuntamento al prossimo tutorial e saluto arrivederci ciao 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 ciao